Allora, avevo promesso un attimo fa, cerchiamo insieme di prenderci qualche istante per capire davvero com'è la genesi di questa storia. Perché la storia di Gaza, di cui parliamo da un anno dopo il massacro dei terroristi di Hamas contro Israele, non in realtà riusciamo a capirla fino in fondo. Allora, usiamo la nostra linea del tempo, la nostra timeline, per capire com'è la storia di Gaza. Allora, succede questo nel 67, c'è la guerra dei sei giorni, Israele occupa Gaza, paradossalmente gli anni dell'occupazione sono proprio quelli in cui gli abitanti di Gaza hanno più libertà, si possono muovere con qualche libertà in più. Poi, i grandi negoziati, arriviamo alla data chiave da cui partiamo con il nostro ragionamento. Ecco qui la nostra linea del tempo che ci porta al 1993. Sono gli accordi di Oslo, la firma degli accordi di Oslo è questa stretta di mano tra Rabin e Arafat davanti agli occhi di Bill Clinton. Insomma, è il momento della speranza. Vediamo come lo raccontavamo. Eccole da Washington le immagini che diventano storie. Arafat, solidente, tende la mano, un attimo di incertezza e poi Rabin la stringe. È un grande giorno per le speranze del mondo. Israeliani e palestinesi dichiarano di non volersi combattere più e camminano insieme sulla strada della pace, consapevoli delle difficoltà ma ottimisti sulla capacità di realizzare il grande sogno, la grande sfida della pace. Era il 1993 e si titolava Shalom, Salam, pace. Il primo luglio del 94, Yasser Arafat, il leader palestinese, dopo 27 anni di esilio, torna e invita i palestinesi sostanzialmente a tornare nella striscia di Gaza, a riappropriarsi di quel territorio. Attraverso il valico di Erez i cittadini di Gaza, quelli che tornano a Gaza ad abitare, possono comunque uscire per andare in Israele a lavorare, a trovare le proprie famiglie in Cisgiordania. Allora, addirittura attraverso il valico di Raffa, quello di cui tanto si parla in queste ore, potevano uscire e andare, il valico di Raffa è verso l'Egitto, no? Quindi uscire, andare verso l'Egitto, viaggiare, cittadini quasi normali. Poi le cose iniziano a cambiare. 1998. Andiamo con la nostra linea del tempo. Eccoci qua, 1998. È ancora un buon momento, nonostante cose drammatiche ne siano già accadute molte, tra le quali proprio l'uccisione di Rabin. Ma Gaza, in questo momento, ha un aeroporto e il 14 dicembre viene addirittura inaugurato. È l'aeroporto internazionale che porta addirittura il nome di Yasser Arafat. Vediamo. Con tutti gli onori. Arafat schiera tutti i membri dell'autorità palestinese davanti al podio presidenziale. Clinton taglia il nastro per inaugurare l'aeroporto di Gaza, frutto di anni duri di negoziato con Israele, e tutti vedono in quel gesto l'inaugurazione del futuro Stato palestinese. Per le strade di Gaza è un tripudio di bandiere a stelle e strisce. I preparativi hanno portato le stelle e le strisce ovunque. Io vi assicuro che mentre preparavamo questa timeline, rivedere quelle immagini dei bimbetti con le bandiere a stelle e strisce, con le bandiere americane dentro Gaza, mi ha fatto un'enorme impressione. Perché davvero, in quegli anni, nonostante lì il processo di pace stesse già significativamente rallentando, c'era ancora speranza e un presidente americano era lì a tagliare il nastro all'aeroporto di Gaza. I controlli li facevano gli israeliani, ma i palestinesi potevano comunque muoversi perché era ancora una fase di apertura. Poi però, che cosa accade? Linea del tempo, dal 98 andiamo avanti lungo la nostra linea del tempo e arriviamo al 2000. Il 28 settembre del 2000, Ariel Sharon, quello qui era premier israeliano in quel momento, decide di andare a fare la cosiddetta passeggiata sulla spianata delle moschee. È considerato un affronto da tutta la comunità palestinese, da tutta la comunità musulmana e di fatto è l'innesco della seconda intifada. Da quel momento, in particolare il 2001 e il 2002, sono degli anni terribili, segnati da continui attacchi terroristici ad opera di Hamas e ad opera delle altre galassie terroristiche palestinese, attacchi feroci. Andiamo a rivedere questo. Questo è l'attacco del primo giugno del 2001. Nella storia di questi ultimi otto mesi di intifada, uno certamente è una delle tragedie più grandi che ha colpito Israele. È il Delfinarium. Un kamikaze si fa esplodere in questo locale pieno di giovani e uccide ragazzi innocenti, ragazzi inermi. Ma in quell'epoca gli attentati si susseguono continuamente e segnano la fine in quel momento di una possibilità reale di processo di pace. Eppure tutto questo non è che si interrompa definitivamente. I negoziati continuano il tentativo di costruire qualcosa di diverso, continua, però Gaza diventa un luogo sempre più chiuso. Proprio a causa degli attentati, il valico che unisce Gaza a Israele verso nord, il famoso valico di Erez, diventa impossibile da attraversare. Viene chiuso e in quel momento attraversare il valico di Erez significava attraversare un pezzo, 400 metri di terra di nessuno e i palestinesi non potevano uscire. Quelle che vedete adesso invece sono le immagini del valico di Erez. Nel 2014 è stato costruito questa specie di tunnel che attraversa quella terra di nessuno che prima si attraversava completamente vuota e comunque questo valico di Erez segna sostanzialmente il sigello perché da quel momento in poi, dall'epoca degli attentati in poi, chi è dentro Gaza non può più uscire, non può più uscire neanche per lavorare in Israele. Il 2005 è un momento molto particolare perché quello stesso Ariel Sharon che avete visto nel 2000 sulla passeggiata, sulla spianata delle moschee, nel 2005 prende una decisione storica. Dice che uno dei problemi più grossi che noi abbiamo dentro Gaza è il fatto che siamo lì con i coloni e quella è una zona di attrito. Noi ce ne dobbiamo andare con i coloni e quindi fa una scelta molto difficile per gli israeliani. Questo sarà il nostro modo di garantire ai palestinesi che si autodetermino e quindi Sharon dice il disimpegno da Gaza. Via tutti i coloni. Guardate le immagini. In queste immagini vedete la violenza delle evacuazioni di quei giorni e nonostante Ariel Sharon sia un premier conservatore, un premier di destra, viene durissimamente attaccato da parte della destra israeliana e in particolare di chi è vicino ai coloni proprio sulla scorta di queste immagini dei coloni che a forza vengono portati via dall'esercito israeliano per far sì che Gaza torni completamente in mano ai palestinesi. In quel momento un'opportunità c'è e invece l'opportunità non viene colta da parte palestinese. Vedete perché? Andiamo avanti con la nostra linea del tempo perché nel 2006, tra il 2006 e il 2007 è il momento in cui le fazioni palestinesi lottano dentro Gaza. È un momento di enorme violenza tra le fazioni palestinesi, tra i gruppi legati all'ANP e ad Hamas. Un governo che viene... Hamas stravince le elezioni del 2006. viene fatto un governo, un governo in cui sono presenti sia ANP che Hamas. Il governo è un'esperienza fallimentare. I combattimenti per strada forse abbiamo delle immagini di quei combattimenti di quel momento. Queste sono immagini del 2006, insomma tra il 2006 e il 2007 fallimento totale della coesistenza tra Hamas e ANP dentro Gaza, grande fallimento e a quel punto cosa succede nel 2007? Succede che è Hamas a prendere il pieno controllo della striscia. Da quel momento la striscia di Gaza è un luogo sigillato da cui i palestinesi non possono più uscire. Non ha più nessun modo per sostentarsi. può contare solo sugli aiuti internazionali dell'UNRWA e sui denari che iniziano ad entrare dal Qatar. A quel punto nessuno vede più dentro Gaza che cosa sta succedendo davvero. Gaza è completamente in mano, nelle mani di Hamas. E lì è l'inizio probabilmente, la genesi della storia che stiamo vivendo in questi giorni. Guardate, mentre torno al mio posto vi facciamo vedere questa manciata di immagini di un video celebrativo su Gaza che mette in onda al Jazeera e ovviamente nella logica del Qatar che addirittura pensa di raccontare Gaza come un luogo di delizie dove andare a vivere. Guardamolo insieme. Poverty before the war, Gaza was full of life. People found their way to joy. In style and luxury, in simple pleasures, in creative expressions, or just delicious treats. This is the Gaza Palestinians have known, loved.